L'estate a Napoli prosegue nel segno del teatro e della musica. Dal 9 agosto al 1 settembre torna in città la rassegna classico contemporaneo con la direzione artistica di Gianmarco Cesario e Mirco Di Martino in programma nel chiostro del convento di San Domenico Maggiore. È la sesta edizione di un'iniziativa che continua a proporre i grandi classici in chiave contemporanea e che quest'anno vedrà in scena gli spettacoli in programma per almeno due date consecutive. Quest'anno io sono particolarmente legato alla prima edizione del 1979 dell'estate a Napoli perché ahimè ero già un giovanotto e quindi poter partecipare all'estate a Napoli che celebra i 40 anni di questa manifestazione per me è molto emozionante. Le novità di quest'anno sono sempre dettate da quello che è il nostro brand cioè raccontare il teatro classico attraverso gli occhi contemporanei, linguaggi nuovi e questo avviene come appunto dicevamo prima con la musica che con il teatro. La musica è presente in parecchi appuntamenti fondamentalmente quelli importanti sono tre, quello di apertura con Francesca Giardina e il suo spettacolo concerto sulla canzone classica napoletana che parte appunto dalle origini ma arriva anche a Pino Daniele che è l'ultimo grande cantore della canzone napoletana. Poi abbiamo la celebrazione di un mito quale Fabrizio Di Andrè e poi abbiamo uno spettacolo particolarissimo che è il ragù chantant e si parla di canzone da varietà abbinata a quella che è l'altra grande eccellenza dei classici napoletani che è la cucina. E poi teatro che parte dal teatro classico di Seneca o Plauto e arriva a quello del Novecento. Gli spettacoli di classico contemporaneo saranno presentati quasi tutti in prima assoluta da giovani registi napoletani a sostegno di nuove proposte e di nuovi percorsi artistici. È un'idea molto forte cioè di attualizzare i classici quindi di cimentarsi con i classici ma lo si deve fare ovviamente con il coraggio di esplorare, di inventare cose nuove, di interrogare i classici per trarne tutto il succo che i classici possono darci. In questo si cimentano nuovi drammaturghi, nuovi registi, nuovi attori quindi anche una grande prova per i nostri talenti e per scoprire nuovi talenti. È una rassegna che si fa con pochi mezzi, con poche risorse anche se è uno scenario splendido come quello del Chiostro di San Domenico Maggiore. Io spero che tanti cittadini, visitatori, critici, appassionati vorranno sempre di più scoprire e sostenere questo esperimento e questa esperienza.